Eccoci in compagnia di Vittorio Costanzo, direttore delle filiali Prestito Si di Solofra, Napoli, Salerno e Bari. Quella di Vittorio è una storia di passione e determinazione, la storia di un giovane consulente del credito che con il suo talento è riuscito ad ottenere ruoli importanti e davvero ambiziosi. Ciao Vittorio, tu sei la dimostrazione delle opportunità di carriera che la Prestito Si offre ai giovani di talento che vogliono intraprendere la professione di consulente del credito. In particolar modo possiamo dire che la filiale Prestito Si di Solofra, che ha sede in questo meraviglioso headquarter, è un po' la tua creatura. Ciao Francesca, beh sì, in qualche modo è possibile. Con la nomina direttore della filiale di Solofra mi sono impegnato a creare dei protocolli interni o modus operandi che nel tempo si sono rivelati in ingegno. Dalla metodologia richiamata alla formazione dei nuovi ingressi, ho in qualche modo stabilito delle linee guida e delle procedure operative che oggi sono un punto di riferimento anche per gli altri nostri filiali del Sud Italia. In particolar modo per quelle di Salerno, Namoli e Bari, che oggi sono sotto la mia direzione. Vittorio, nello specifico, qual è il tuo ruolo come direttore di filiale? Francesca, il mio ruolo è quello di formare i nuovi ingressi attraverso la formazione e l'affiancamento puntivo. Per questo sono un punto di riferimento anche per le altre nostre filiali dislocate su tutto il territorio nazionale. L'aggiornamento e l'affiancamento sono due punti di forza delle nostre filiali, che grazie a NID profilati e a portafoglio clienti riescono ad offrire grande opportunità di carriera ai consulenti del credito, che decidono di entrare nella nostra grande fine. Perché un giovane che desidera intraprendere una carriera nel settore del credito dovrebbe scegliere PrestitoSì? PrestitoSì è una società giovane e dinamica, proiettata verso il futuro e con obiettivi ambiziosi. I programmi di carriera e i percorsi formativi sono unici nel settore e sono realmente a misura del consulente. Giovani possono entrare in una realtà predisposta a valorizzare il loro potenziale grazie al percorso formativo first class, ai webinar e alle alle tecniche che garantiscono un aggiornamento continuo rispetto alle nuovite del settore. Inoltre il supporto e l'affiancamento dei consulenti Seon garantisce un percorso lineare di successo, con responsabili di aria che sono sempre pronti a trasformare ogni impedimento in opportunità. In definitiva PrestitoSì offre al consulente tutti gli strumenti necessari per realizzarsi professionalmente e personalmente. Grazie mille Vittorio, io ti lascio al tuo lavoro e continuo il mio tour. Ciao Francesca!